Fabio Terminè, voi che siete intervenuti sul tema dei rifiuti qualche settimana fa, come commentate le notizie che riguardano lo sforamento dei costi di conferimento in discarica, ricordando peraltro che la discarica si trova sul territorio comunale di Sciacca? Li commentiamo con rammarico perché è brutto dirlo ma l'avevamo detto che si sarebbe arrivati a questo punto, noi tre settimane fa abbiamo chiesto di essere convocati dal sindaco e dall'assessore Arramo per parlare di queste emergenze, di queste emergenze che riguardano questo e non solo questo. Con noi abbiamo chiesto di essere convocati perché è diventato un tema serio questo, il fatto che si sta sforando e quindi il prossimo anno aumenterà la Tari, noi l'abbiamo paventato fin dall'approvazione del piano Aro e quindi se si continuerà come quest'ultimo anno è chiaro che il prossimo anno ancora aumenterà ancora di più, poi ancora di più, ancora di più e quindi il serio rischio è uno. In primis che chi oggi paga la Tari domani potrebbe decidere di non pagarla perché se si vede che i servizi poi non corrispondono a quello che si paga uno potrebbe anche decidere di non pagare la Tari e questo è un problema serio e poi il serio rischio è che domani quando la discarica di Saraceno-Salinella sarà piena come abbiamo detto noi tre settimane fa si potrebbe decidere di andare a Catania, a Lentini con ulteriori costi e con un ulteriore aumento della Tari. Quindi questo è un problema serissimo perché poi va anche a disinnescare un meccanismo produttivo perché io immagino le tante attività commerciali che anno dopo anno pagano sempre più Tari e quindi non possono sostenere un'attività commerciale e quindi va anche a scatenare un meccanismo che va a ledere l'economia di tutta la città. Voi avete chiesto anche di essere sentiti in Commissione Ecologia e Ambiente? Noi abbiamo chiesto di essere sentiti dall'amministrazione e quindi dall'amministrazione Valenti e quindi dall'assessore Arramo ma anche dal sindaco e non abbiamo ricevuto risposta in questa settimana quindi io quello che vedo è che sui rifiuti questa amministrazione Valenti sta comunque continuando per come si era fermata l'amministrazione di Paolo quindi ci sono gli stessi silenzi che c'erano con Di Paola e quindi noi abbiamo deciso domani di protocollare una richiesta di convocazione presso la Commissione Ecologia preseduta da Carmela Sant'Angelo sicuri del fatto che anche Carmela Sant'Angelo ha a cuore gli interessi della città e quindi siamo sicuri che ci riceverà. E con rimane sullo sfondo il problema di una raccolta differenziata che per voi per come viene fatta con questo sistema del multimateriale non sta funzionando e rischi di scoppiare? Sì perché c'è da ricordare questo alla città che nonostante il piano Aro e quindi il contratto con il privato non è ancora operativo perché non è stato firmato il contratto gli effetti del contratto per quanto riguarda il metodo di riraccolta sono stati anticipati un anno fa quindi è da un anno che noi facciamo la raccolta multimateriale questa raccolta non sta funzionando è chiaro che questo deve essere anche incentivato questo meccanismo di raccolta differenziata da un indirizzo politico che in questo momento è mancato e da un coinvolgimento di tutta la città perché quello che non si è capito è questo che questo problema lo supereremo tutti insieme ma se non si convoca neanche le parti politiche non si risolverà mai.